E la Regione punta sulla zona economica speciale, in sigla ZES, per nuove opportunità di sviluppo in collaborazione con la Puglia. Esther Maria Lorido ci spiega di cosa si tratta. Incrementare gli investimenti. È questo il primo obiettivo della ZES interregionale adriatica, misura volta a sancire un asse strategico tra Molise e Puglia. Insieme al contratto istituzionale di sviluppo, la ZES rappresenta un asse strategico di medio e lungo termine, ha precisato il presidente del Molise Toma, che ha anche sottolineato quanto questa misura sia fondamentale per il suo governo. Per l'istituzione si dovrà aspettare il decreto del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Intanto però, il 19 aprile scorso è stato aggiunto un tassello importante. L'Aggiunta regionale, infatti, ha approvato il piano strategico della ZES interregionale adriatica. Ma c'è di più, perché il DL Crescita prevede anche specifici programmi di investimento attraverso l'istituzione del Fondo Piano Grandi Investimenti ZES, piano con cui saranno stanziati per le varie ZES 50 milioni per il 2019, 150 per il 2020 e 100 per il 2021. Questo strumento finanziario favorirà impieghi diretti in forma di debito di capitale o la sottoscrizione di quote di fondi. L'obiettivo è sempre lo stesso, sfruttare maggiormente la capacità attrattiva di nuovi investimenti, anche attraverso la rete portuale, stimolando così lo sviluppo nelle aree ZES. Vale a dire 516 ettari in tutto il Molise, porto interporto di Termoli, ma anche nucleo industriale del Basso Molise, zona PIP di Larino e aree nei nuclei di Boiano e Venafro. Di questi 516 ettari, 100 sono stati messi da parte per eventuali imprese che decideranno di insediarsi in area non ZES, a patto che assicurino un investimento superiore ai 15 milioni di euro. Abbiamo bisogno di creare lavoro, ha sottolineato Toma, questo è l'anno dello sviluppo molisano. Adesso l'unico nodo ancora da sciogliere sembra essere quello dell'Abruzzo, da cui, ha spiegato, è arrivata la richiesta di aderire alla ZES adriatica. Richiesta accolta favorevolmente, ma che non dovrà rallentare il percorso della ZES stessa, ha concluso il presidente della regione molise. Se ne riparlerà quindi dopo il varo del decreto del premier Conte, previsto prima dell'estate.